S'appica uno premio architettura tra Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli del premio sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso il cassello ducale a Ceglia. Questo è un tentativo originale di valorizzare le abitazioni tipiche del proprio territorio. Io vengo da un comune che è soprattutto boccato per il balneare, la costa Smeralda, però abbiamo notato che quest'ultimo decennio la cultura è cambiata, non si vuole più solo sole, mare, ma se io vado in vacanza voglio anche identità, voglio natura, voglio ambiente e voglio anche quel rapporto umano che a volte nel balneare invece manca perché è assettico. E quindi abbiamo detto vediamo un po' quali sono le identità similari che abbiamo in questo nostro mezzogiorno d'Italia. E ci siamo trovati ed è stata una scelta fantastica perché io sono rimasto estasiato da quello che ho trovato in questo territorio, soprattutto qui a Ceglie, nelle sue grotte, nei suoi trulli, in un'organizzazione anche architettonica del passato che pensò che non esistesse, dico la verità, e noi eravamo quasi glorificati per i nostri stazzi, qui c'è altrettanta cultura, forse più che da noi perché noi siamo un popolo più povero, più umile e quindi con strutture meno importanti di quelle che abbiamo trovato qua. Ci sarà ora un interscambio tra le nostre produzioni e le loro produzioni, sono nati già dei rapporti, qual è quello tra il nostro istituto alberghiero e l'istituto alberghiero che è presente sul territorio di Arzachena. Loro hanno sposato il nostro progetto della scuola di gastronomia, quindi porteranno qui anche la loro cucina, così come la cucina di Pantelleria. Insomma si è creato un bel connubio che sicuramente tra anni e negli anni ci dà una grande soddisfazione. Questo deve essere appunto il momento di partenza per la conoscenza, la valorizzazione del territorio di Pantelleria e quindi della sua cultura che nonostante l'insularità è una cultura prettamente contadina. Non ha avuto modo di vedere i trulli qui a Ceglie, che giudizio si è fatto? È una cosa unica al mondo, forse credo ancora più unica del Dammuso. Ogni struttura ha la sua peculiarità e ogni struttura rappresenta il territorio.